Siamo con Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Bisi, lei si trova a presiedere un ente che non è sempre popolarissimo fra i cittadini, ma perché molti non capiscono concretamente a cosa servono questi contributi che sono chiamati a pagare ogni anno. Ci può aiutare nel comprendere meglio se questa è una tassa, se sia un contributo e a cosa serve? La città di Piacenza in particolare è una città molto fragile perché è a ridosso del Po, quindi tutta la parte della provincia, soprastante la città, scola a ridosso della città. Quindi questo è un problema che nettamente è stato risolto con delle opere di bonifica, tra cui i colatori, tra cui quella più importante, la cassa di espansione sul colatoriello a ridosso del tangenziale. Tutti vedono queste vasche che fortunatamente poche volte vengono messe in azione, ma se non ci fossero e malagoratamente quella volta servisse di riempirle tutte, avremo tutta la città lagata, ma poi soprattutto tutta l'acqua che piove, Piacenza è naturalmente una città quindi completamente impermeabilizzata, quando piove l'acqua si riversa in tutte le varie situazioni di regimazione in rigua e arrivano a ridosso del Po. In molti casi, quando il Po è più alto di quello che è il livello della città, se non ci fossero impianti idrovori, cosa succederebbe? Perché addirittura il Po tornerebbe indietro, non solo l'acqua non sgronderebbe in Po, ma addirittura tornerebbe indietro essendo i livelli più alti. Quindi noi abbiamo delle pompe paratoie che chiudono il Po, quindi impediscono che il Po venga in città. E pompe importantissime, la Finarda credo sia uno degli esempi più grandi, invito anche i cittadini a venire a visitare nei giorni in cui noi ci occupiamo proprio di fare queste visite, servono a sollevare il livello dell'acqua e portarla in Po. No, allora, se ciò non succedesse, le immagini della città lagata, la più famosa è il tema della monta di Rath, per cui con l'allagamento di tutta quella parte di città i topi correvano per salire in Piazza Cavalli, quella è una cosa che oggi non succederà più e a volte faccio una provocazione, è meglio che i cittadini non si accorgano di quanto è utile il Consorzio di Bonifica perché significerebbe una catastrofe in città. Quindi, in sostanza, il Consorzio di Bonifica non serve per bonificare zone paludose come è nell'immaginario delle persone, ma serve per dare un servizio soprattutto di sicurezza idraulica? Sì, è la nostra prima, è la priorità assoluta. Le faccio un esempio. Per dare ancora più velocità, l'unica delega che, oltre al Comitato Amministrativo, è in capo al Direttore Generale, è proprio quella dell'urgenza di Polizia Idraulica. Significa che, qualora non ci fosse il Presidente o il Consiglio o chiunque, il Direttore Generale firma le ordinanze per fare degli interventi di questo genere. Significa una grande situazione di protezione civile anche che svolgiamo proprio per questa funzione. Nonostante quello, noi abbiamo svolto negli anni come enti in generale questo fatto delle bonifiche dei territori. Oggi la nostra funzione è diversa ed è proprio quella principalmente lo sgrondo delle acque. In questo momento stiamo affrontando un periodo di poca pioggia, di poca neve. Potremmo definire di siccità, anche se siamo nel periodo invernale, ma in generale non è che sia cambiato tantissimo la situazione da questa estate. Quindi abbiamo anche delle grosse dighe che sono sotto, diciamo, la vostra tutela, che sono quasi asciutte o perlomeno non sono, come erano in passato, piene d'acqua. Questo vuol dire anche che bisognerà ripensare la funzione della bonifica, ma soprattutto anche la funzione idraulica delle dighe. Le dighe sono la soluzione per il futuro, per dare acqua ai nostri territori agricoli? Ma allora, è una domanda molto ampia. Intanto voglio ricordare che la seconda funzione per importanza del Consorzio è proprio quella in rigua, con dei capitoli di bilancio e di spesa ben dedicati. Questo tema è un tema che ha noi stracuore in modo particolare. Abbiamo vissuto nel 2022 l'anno orribile, ci piaceva chiamarlo quello della tempesta perfetta, quindi poca acqua, grande necessità di irrigare perché non è piovuto dalla primavera all'autunno e poca possibilità di prelievo anche dalle fonti che abbiamo, che sono le dighe, i fiumi e il po'. A mettere ciliegine sulla torta, un'esplosione dei costi energetici che abbiamo utilizzato per superire, quindi è evidente che più acqua c'è nelle dighe, meno costerà l'irrigazione perché l'acqua va per cadute, quindi per fluidazione ed è naturalmente gratuita finché esiste la gravità. E al contrario le pompe che usiamo per sollevare da po' sono molto energivore e quindi costosissime, tant'è che sono aumentati in modo sproporzionato i costi agli agricoltori già dal 2021. Noi abbiamo quindi avuto questi quattro elementi disastrosi per il 2022, ci auguravamo che ciò non succedesse nel 2023. I presupposti sono terribili, tant'è che ho proprio qua i dati, per esempio, della diga del Molato, che l'anno scorso, lo stesso giorno in cui ci troviamo oggi, era al 36,9% e oggi per cento di invaso, quindi fatto cento la sua capacità di invaso era al 36,9%, 40% malcontrato. Oggi è al 4%, 10 volte meno, nello stesso periodo. È mai successo in passato? No, una cosa così non è mai successa, nel 2016-2017 era una cosa del genere, però poi le piogge l'hanno rimpinguata. Noi speriamo, come sempre, è chiaro che affidarsi alla speranza è una cosa abbastanza ridicola, però purtroppo quando stiamo parlando di risorse idiche, di precipitazioni, noi non possiamo fare altro che sperare nelle precipitazioni. In molti casi però è successo che a fronte di un gennaio-febbraio con la diga molto bassa, in primavera con le piovosità primaverile temporalesche si era riempito il bacino. Questo è quanto ci auguriamo, perché diversamente dobbiamo portare un'ulteriore brutta notizia agli agricoltori. Noi abbiamo appena finito le riunioni un po' conclusive di come è andata la campagna, e anche per avvertirli dell'importante costo delle nostre cartelle, che metteremo come contributo per l'irrigazione 2022. Nel 2023 certamente dovremo ricominciare delle riunioni dicendo attenzione anche alla programmazione di quello che è il piano colturale delle nostre aziende, perché se non si hanno folte alternative è molto pericoloso. Ulteriore problema che spesse volte non è molto considerato è la situazione delle falde, perché le nostre aziende agricole sopperiscono al fatto che magari non c'è acqua in trebbia durante la stagione in rigua, piuttosto che in nure, come per esempio quest'anno è stata veramente una stagione molto molto grave dal punto di vista della siccità, si sopperisce attraverso i pozzi. E' chiaro è che annate poco piùose come queste abbassano quello che è il livello delle falde, quindi mettendo anche a rischio questa risorsa che è naturalmente l'emergenza ultima delle aziende agricole. E quindi che fare? Le lighe sono semivuote, i pozzi anche, quale può essere la soluzione per il futuro? E' chiaro che tutto quello che sono strumenti per la conservazione delle acque, comprese le lighe, ancora io insisto che sono uno strumento attuale, basta guardare oggi per esempio il trebbia che sta avendo una portata molto importante che naturalmente non stocchiamo, quindi qui è una tematica di grande interesse. Io non sto parlando di lighe, anche se non ne sono assolutamente in modo pre-confezionato contrario, così come non ne sono in modo pre-confezionato a favore, ma sto parlando magari di invasi. Per esempio allo studio, è chiaro che non è una soluzione immediata, ma è allo studio un lago importante a ridosso, al di sotto di Cablatta, più o meno vicino al ponte di Tuna, di sotto al ponte di Tuna, recupero di una ex cava che ci consentirebbe di invasare per esempio 3 milioni, 3 milioni e mezzo di metri cubi di acqua e qui naturalmente andiamo a fare una riserva significativa. Un'altra cosa, un invito che faccio anche agli enti, in modo particolare alla regione, è l'idea di far circolare nel nostro reticolo secondario l'acqua durante l'inverno, per esempio in questo momento noi potremmo prelevare l'acqua da Trebbia, c'è abbondanza, farla andare in tutti i canali e ricaricare le falde. Chiaro che l'acqua che noi facciamo fluitare all'interno dei nostri canali, per buona parte, per una parte interessante, percola all'interno delle falde, quindi farebbe una sorta di ricarica in modo... E perché non si fa? Perché il meccanismo delle autorizzazioni, anche regionali, non prevede il prelievo in alcuni momenti dell'anno dell'acqua. E quindi l'acqua va sprecata? L'acqua va sprecata o sarebbe, come dire, in modo meno efficiente utilizzata? Io credo e sono fermamente convinto che sia in Nure che in Trebbia, in questo momento potremmo veramente fare questo tipo di attività e andare, tra virgolette, a crearci delle specie di riserve all'interno, tra l'altro anche in modo molto ambientalmente sostenibile, perché ricaricare le falde, secondo me, è una delle cose che fa meglio l'ambiente. In questo provo a prevenire una domanda che mi potrebbe fare in un secondo momento, che dice, tu vuoi intubare i canali e dici che invece vuoi far andare i canali cero aperto. E' proprio questo l'elemento su cui noi dobbiamo appuntare. Nel momento in cui, per esempio d'estate, la risorsa è limitatissima e abbiamo necessità di irrigare, non dobbiamo perdere nemmeno una goccia nella nostra percorrenza, quindi è giusto utilizzare le tubazioni in pressione, come stiamo realizzando e come realizzeremo, si vedranno, insomma, nei prossimi 3-4 anni. Allo stesso tempo, nel periodo in cui c'è abbondanza, perché no? L'utilizzo proprio di queste reti a cielo aperto e soprattutto non impermeabilizzate consente da una parte di distribuire comunque acqua e ricaricare le falde e allo stesso tempo di tenere vivo anche un grande ambiente ecosistemico che si giova del fatto che ci sia l'acqua. Mi riferisco gli animali selvatici, mi riferisco alle piante arginali, mi riferisco tutto quello che è anche il bello di vedere l'acqua nei fossi. Quindi seguire la natura d'inverno e un po' la tecnologia invece d'estate. Insomma, è chiaro che dobbiamo cercare di recuperare ogni ultima goccia. Io ero seduto a questo tavolo proprio qui nelle riunioni che ogni settimana facevamo con le varie zone irrigue per vedere qual era la gravità della nostra situazione all'interno dei vari areali, nei vaccini del Trebbio, vaccini del Tidone, Arda e Po, dove gestiamo l'irrigazione, ogni settimana facciamo la riunione e dicevo ragazzi noi dobbiamo trovare l'ultima goccia d'acqua che possiamo usare e la dobbiamo dare alle aziende agricole. Abbiamo, nonostante un incremento enorme di costi, di fatto fatto irrigare il nostro agricoltore e salvato la campagna, che lo ricordo non è solo un fatto agricolo, l'irrigazione è un fatto che riguarda l'economia dell'agroalimentare di una provincia come Piacenza che dell'agroalimentare secondo me ne fa avanto. Mi riallaccio a quello che stavo dicendo poco fa, ossia di questo aumento dei costi legati all'aumento dei costi del carburante in particolare. Questo ha provocato un aumento dei contributi consortili, o della tassa di bonifica, come la si voglia chiamare, e questo ha provocato anche il disappunto, per così dire, di un gruppo di consiglieri che sono stati eletti nell'ultima tornata elettorale nel Consiglio della Bonifica, la lista di giustizia e trasparenza, che ha criticato fortemente questo aumento delle tariffe e ha dato alcuni suggerimenti per come, a loro giudizio, si potrebbero contenere i costi di questo consorzio di bonifica. Si può cogliere qualche spunto dai suggerimenti dati da questa lista? Hanno torto o ragione nel criticarvi? Allora, intanto mi piace dire che è sempre bene il confronto all'interno anche di un contesto come il nostro, che naturalmente gestisce anche delle risorse importanti, è giusto che ci sia un elemento anche più critico, che è, come dire, propedeutico, ad utilizzare meglio le risorse che chiediamo ai contributi. Vi ha criticato anche la CGL, peraltro? Ci ha criticato anche la CGL e poi veniamo anche alla CGL. Il tema generale è che ogni amministratore è anche consorziato, altrimenti non sarebbe amministratore, quindi ad ognuno di noi non ha fatto certamente piacere incrementare quelli che sono i contributi e di fatto il bilancio preventivo, che è poi lo strumento con cui si va a formare l'avviso di pagamento e poi la cartella. Però noi non dobbiamo fare degli errori nelle valutazioni. Intanto abbiamo costruito, così come anche richiesto, devo dire, da alcuni dei consiglieri, in modo particolare dai due componenti che sono, tra l'altro, anche nella lista che mi ha eletto, i rispondenti di confedilizia, la richiesta da parte loro è quella di evidenziare meglio nel bilancio come erano le componenti della spesa. Cosa significa? Il bilancio del consorzio non è un bilancio che fa business, è una stima, il bilancio preventivo è una stima di quelli che sono i costi che noi andremo a sostenere sulla base di indicatori che sono l'anno precedente, più naturalmente quest'anno con l'aumento potenziale dei costi, naturalmente abbiamo dovuto modificare pesantemente e si vede, infatti, l'aumento, nei vari settori. I settori sono la bonifica, quindi tutta la pianura, la montagna, l'irrigazione, l'irrigazione anche nelle varie zone. Valtidone, per esempio, ha avuto un aumento, se non ricordo male, del 117%, quindi quel numero che apparse, ahimè, del 114%, quel numero che apparse nella media su quel titolo del quotidiano locale non era esattamente quello che i cittadini, per esempio, a cui si faceva riferimento alle precedenti domande andranno a pagare, perché quella è la media di un aumento dell'8,40% e un 114%, quindi è una media sproporzionata. Allora, cosa succede? Noi abbiamo, naturalmente, cercato di contenere il più possibile alcuni costi che erano risparmiabili, faccio con esempi i costi della comunicazione, io qua sono in un ambiente di intervista che ben volentieri rilascio, ma i costi di comunicazione... Gratuitamente, però. Gratuitamente, tra l'altro. Da entrambe le parti, costi che in effetti sono stati fortemente ridotti, perché se non vado errato, solo 4 anni fa c'erano 160.000 euro a bilancio. No, quali erano anche la rappresentanza. Noi comunque abbiamo ridotto di circa il 50% quello che è il nostro budget rispetto alla comunicazione, perché ci vogliamo limitare di più a quella che è la comunicazione istituzionale. Anche se, questo è un po' così, un piccolo sfogo che voglio fare, è anche più qualcuno dice che il consorzio non serve a niente, più il consorzio ha bisogno di risorse per raccontare quello che fa, quindi è evidente che convinti di un'opera, secondo me, anche positiva che viene svolta dal consorzio sul territorio, la dobbiamo comunicare. Ma soprattutto, queste sono quelle che di solito fanno più impressione, le spese di rappresentanza, i rimborsi del Presidente, queste cose qua, cose che naturalmente servono per lavorare e va fatto con grande oculatezza, ma assolutamente non dobbiamo, come dire, trasgredire quella che è una missione, che è anche quella di comunicare le cose che facciamo. Allo stesso modo, noi non dobbiamo essere, dobbiamo limitarci all'essenziale e con un certo rigore nella spesa. Anche perché comunque non è la spesa più importante di questo consorzio, le spese più importanti sono ben altre, il personale per esempio. Per esempio il personale, e qua veniamo alla CGL, ha avuto, grazie a un aumento che a causa o grazie, a seconda della posizione in cui si vede, del contratto collettivo nazionale, quindi CGL al tavolo, del 4%, che ha comportato un aumento significativo dei costi dell'ente che naturalmente sono stati conteggiati in questo aumento. Solo il 4% dell'aumento, che è la prima voce di spesa del bilancio, che è il personale, ha comportato un aumento importante. Però tornando indietro, la tematica per esempio dei consiglieri giustizia e trasparenza che ci attaccano facendo anche delle proposte per ridurre i costi, è abbastanza strumentale. Mi spiace dire questo perché avevo anche incominciato con alcune di loro alcune tematiche di condivisione su alcuni argomenti, per cui ci sarebbe anche interessato costruire dei percorsi insieme alle loro sensibilità. Però, per esempio, il fatto di chiedere che venga azzerato il costo per la riscossione è veramente una più illusione. È evidente che nessuno corre al consorzio per venire a portare i soldi se non li vuole pagare. Nonostante ciò, abbiamo fatto un'operazione di riscossione interna, attraverso l'invio degli avvisi internamente al consorzio, con un risparmio di 150.000 euro all'anno, che da questo punto di vista è un impegno importante che ha sostenuto l'amministrazione con il proprio personale per andare a fare non più con Equitalia l'avviso, ma l'avviso è messo direttamente dai nostri uffici. Chiaro è che per chi non pagherà l'avviso dovremmo ricorrere all'Agenzia delle entrate e riscossione. Uno degli inviti che avevamo già messo in conto di mettere in campo era una revisione, quindi non è una questione immediatamente applicabile, di quelle che sono le tariffazioni della manutenzione degli acquedotti. Cosa significa? Significa che c'è una sperequazione tra gli utenti di montagna, per cui alcuni di loro utilizzano gli acquedotti di montagna, che ci furono commissionati e affidati alla gestione nel dopoguerra dal Ministero dell'Agricoltura, per rendere fruibile l'acqua in alcune frazioni isolate dagli acquedotti. Tutto ciò oggi comporta in alcuni casi che la differenza di tariffazione, quindi del contributo tra chi giova dell'acquedotto e chi non ce l'ha, non esiste. Quindi in questo caso una tariffazione aggiuntiva per quegli immobili che godono di questa opera, quindi un incremento del loro contributo a vantaggio degli altri, sempre parliamo di contribuzione montagna, potrebbe essere una delle cose da mettere in campo. Stiamo comunque parlando di poche decine di miliardi di euro a essere ottimisti i 150 mila euro. Quindi non cambierebbero di molto quello che è il bilancio? Non cambierebbe di molto quello che è il bilancio e non cambia di molto neanche, nonostante gli aumenti, il bilancio delle famiglie, dei consorziati, di chi ha una casa o un garage. Stiamo parlando di aumenti che si contengono dall'1,5 ai 3 euro annui. Quindi una spesa, per il modo di Dio, io ho sempre molto rispetto per i soldi, ma dal punto di vista del valore assoluto un incremento molto contenuto. Ha fatto accenno prima allo spacchettamento che avete fatto di alcune voci di bilancio, chiesto dai componenti di confedilizia, componenti di confedilizia che però non si sono presentati quando c'è stata l'approvazione del bilancio, quando c'è stata l'approvazione dello scostamento di bilancio precedente, se non vado errato si sono astenuti. Cosa vuol dire? Che c'è un po' di maretta in seno alla maggioranza? No, dal punto di vista del sostegno di quelle che sono le attività ordinarie del consorzio sono solidali alla maggioranza che ci ha eletti. Devo dire che non siamo, ad esempio, in un comune maggioranza o minoranza, siamo tutti consiglieri e c'è questa distinzione, in modo particolare dei consiglieri eletti all'interno della lista giustizia e trasparenza, ma non è che abbiamo istituzionalmente, no, come fosse dei gruppi consigliari, cose di questo genere. Delle correnti. Delle correnti e cose di questo genere. È chiaro che i due esponenti che erano nella lista, che ha poi portato all'elezione mia e del Consiglio d'amministrazione e del Comitato amministrativo che governa di fatto l'ente, ci sono alcuni elementi su cui hanno sensibilità diverse dalle nostre, per esempio, la tematica della contribuenza urbana, su cui abbiamo naturalmente alcuni ragionamenti in atto e anche tra di loro, ci sono alcune proposte di modifica, accennavo prima l'idea di modifica del piano di classifica, perché secondo loro preferirebbero imputare le spese su un centro di costa anziché un altro, ma è evidente che stiamo discutendo naturalmente su posizioni spesso lontane, ma tra persone civili e che comunque condividono obiettivi comuni. Ormai è trascorso più di un anno dalla sua elezione, può tracciare un primo bilancio di questo suo primo periodo alla guida del Consorzio di Bonifica, primo periodo che ha visto anche dei momenti un po' agitati, come per esempio quando il direttore generale che avevate scelto, ex sindaco di Rottofreno Veneziani, se ne è andato, se non sbattendo la porta e chiudendola abbastanza rumorosamente. Beh, questo è eccessivo. Io ho un ottimo rapporto con il sindaco di allora, ex direttore nostro, avvocato Veneziani. Tra l'altro anche attraverso dei rapporti personali, siamo stati per molti anni con Paesani, quindi ho una conoscenza dettagliata anche della sua persona che stimo. L'elemento di cambiamento, di idea tra parte dell'avvocato Veneziani è legato al fatto che probabilmente non abbiamo avuto all'interno dell'attività che tutti i giorni svolgiamo, una sintonia piena e essendo persona intelligente, certamente non ha sbattuto la porta, anche perché abbiamo scritto assieme il comunicato, abbiamo fatto un giro negli uffici assieme per comunicare la decisione, ha deciso di tornare a fare la libera professione, così come noi abbiamo deciso di fare una scelta molto diversa come profilo, una scelta interna, che dia stabilità e conoscenza della macchina. Quindi è stato, tra virgolette, un divorzio consensuale con una persona del quale devo garantire una grande professionalità e personalmente una stima importante. Per tornare alla domanda, sul primo anno di mandato, è certamente stato, insomma, diciamo che mancano solo i geyser, poi probabilmente le abbiamo viste tutte. Quindi abbiamo una situazione della siccità, l'abbiamo già detto, drammatica e probabilmente l'affronteremo anche nel domenitri, salvo cambiamenti repentini del clima. La soddisfazione grandissima è che questo ente è stato investito di finanziamenti per realizzare delle opere, anche di dimensioni importanti, anche di valori importanti, tenga conto che il valore complessivo dei finanziamenti supera i 90 milioni, 94 e qualcosa milioni di euro da investire nei prossimi 3-4 anni sul territorio. Insomma, non sono certamente noccioline, credo che ad oggi siamo l'ente che ha ottenuto più finanziamenti sia da PNR che dai vari enti, in modo particolare piano di sviluppo rurale nazionale, per 19 milioni di euro. abbiamo fatto, stiamo facendo un'attività di riqualificazione dei sistemi rigo e di bonifica e di sicurezza, perché solamente in montagna abbiamo fatto 31 interventi di sistemazione di versanti, frane e questa tipologia di iniziative, proprio perché testimoniamo una vicinanza a quei territori e hanno impegnato le nostre persone veramente in modo estenuante per quasi tutta l'estate. Quindi questo momento di attività così grande da una parte mi inorgoglisce, perché probabilmente per altri decine di anni non ci sarà più una fase come questa per il consorzio, d'altro canto mi preoccupa. Non è banale semplicemente il fatto che agli utenti di queste opere, le più costose, non si spaventi nessuno, se non gli agricoltori, sono opere irrigue, quindi andranno caricati alcuni costi, per esempio quelli degli interessi, che non è una situazione banale, non è una condizione banale, proprio a quegli utenti che riceveranno quel miglioramento fondiale. Quindi da questo punto di vista, anche qui io devo andare a raccontare delle vicende spiacevoli. Per contro, le nostre aziende che gioveranno di questi investimenti, avranno dei risparmi significativi, avranno garantita, come dicevamo prima, una continuità dal punto di vista irriguo, importante durante le fasi estive. Ma non solo, noi siamo oggi un ente a cui si rivolgono moltissimi altri enti. Noi abbiamo un rapporto meraviglioso con i comuni, specialmente nei territori di montagna, che sappiamo tutti sono in una situazione molto difficile, con una capacità di intervento anche nel recupero di situazioni che tante volte si farebbe fatica ad avere in altri ambiti. Quindi questo modo di rapportarsi con i territori è un modo che condivido a pieno ed ho ereditato dai miei predecessori proprio perché la continuità di questo meccanismo ha consentito alla bonifica di essere un riferimento e probabilmente l'unico ente ancora in grado su tutto il territorio provinciale di agire. Perché insomma, ormai come si vede la discontinuità amministrativa è un grande problema.